In francese gli anelli si chiamano l'alliance, l'alleanza, perché effettivamente questi anelli vi uniscono in un patto di alleanza ed è bello proprio percepire la ricchezza di tutto un amore che si offre e si dona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carissimi Vincenzo e Francesca, siete venuti nella casa del Signore davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell'amore fedele e inesauribile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.